Ma l'uomo di Dio rispose al re, anche se mi dovessi dare metà della tua casa, io non verrei con te e non mangerei pane né berrei acqua in questo luogo, perché così mi è stato comandato da parte dell'Eterno. Tu non mangerai pane né berrai acqua e non tornerai per la strada percorsa nell'andata. Egli dunque se ne andò per un'altra strada e non tornò per la strada percorsa venendo a Betel. Dal versetto 15 allora il vecchio profeta gli disse, vieni con me a casa a mangiare qualcosa. Ma l'uomo di Dio rispose, non posso tornare indietro né venire con te, né posso mangiare pane né bere acqua con te in questo luogo, perché mi è stato detto da parte dell'Eterno tu là non mangerai pane né berrai acqua e non tornerai per la strada percorsa nell'andata. L'altro, il vecchio profeta, gli disse, anch'io sono un profeta come te e un angelo mi ha parlato da parte dell'Eterno dicendo riconduscilo con te a casa tua perché mangi pane e beva acqua, ma costui mentiva. Così l'uomo di Dio tornò indietro con lui e mangiò pane in casa sua e beve acqua. Al versetto 26, come lo dì il profeta che l'aveva fatto tornare indietro disse, è l'uomo di Dio che ha disubbidito all'ordine dell'Eterno, per questo l'Eterno lo ha dato in balia di un leone che lo ha sbranato e ucciso secondo la parola che l'Eterno gli aveva detto. L'ultimo versetto che leggerò è il 33 e dice, dopo questo fatto Gerobo amo non si tirò indietro dalla sua strada malvagia, ma fece ancora sacerdoti per gli alti luoghi prendendoli da ogni ceto di persone. Chiunque voleva era da lui consagrato e diveniva sacerdote degli alti luoghi. Il tema che toccherò questa mattina è che riguarda il fattore U o il fattore D, che per me significa fattore uomo e fattore donna, persona, che di solito questo fattore noi lo escludiamo un po', siamo un po' diciamo si recalcitranti, vogliamo come persone ci predisponiamo da ricevere tutto da Dio e poi quando Dio non ci risponde gli diamo la colpa di tutto. Diciamo perché il Signore non mi risponde e adesso ti cerco di dare una risposta a questo perché il Signore tarda nella sua risposta o perché non ti pensa proprio quando preghi. Diciamo ma è mai possibile questo? Sì, devo dirti una cosa questa mattina, che il Signore non ama essere assolutamente disobbedito ed è qualcosa che si riscontra molto spesso nella nostra vita, nella tua vita. Innanzitutto, questo episodio dovreste domandarvi perché c'è il capitolo 13 in Prima Re, tutti quanti voi, perché il Signore Ospito Santo ha stabilito questo capitolo? Come io feci una volta uno scherzo ai giovani, dice come mai c'è Genesi capitolo 38? Per pensare, perché il Signore non ci ha dato la scatola cranica per tenerla vuota o quantomeno inattiva, ma per pensare, per pensare se faccio questo cosa succederà, se mi comporto così cosa mi accadrà, se agisco così, sto agendo secondo la volontà di Dio. Allora, c'è la divisione dei regni. Geroboamo è un re cattivo, avete visto l'ultimo versetto, 33-34, è distruttivo. Lui riceve un miracolo in questo capitolo, riceve una profezia, ma continua a essere malvagio. Quindi significa che il cuore dell'uomo è insanabilmente malvagio e non ha niente a che vedere con i miracoli o con le profezie. Che succede? Quando un cuore non vuole cambiare, è ostinato? Non cambia. Vi ricordate Gesù cosa disse al ricco? Manda qualcuno, hanno la legge, hanno Mosè e i profeti. È inutile che uno torna dal mondo, ma crederanno? No, se vedono i miracoli credono? No. 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 È no. Addirittura sfornava, diceva tutti, sapete un po', lo spirito di Geroboamo è ancora presente oggi. Sono tutti salvati, sono tutti figli di Dio, sono tutti cristiani, l'inferno non c'è, alleluia. Quindi sarà tutta una tarantella in cielo. Eppure William Booth, il grande comandante dell'esercito della salvezza, insieme a sua moglie Catherine Booth, che fondarono un'opera straordinaria e fecero delle cose meravigliose e che se leggete furono qualcosa di straordinario per gli ubriachi, per i barboni, per quello che combinarono in tutti i paesi del mondo, lui profetizzò e l'ha scritto a chiare lettere e nel ventesimo secolo non si predicherà più l'inferno. Hanno paura di dire questo. Hanno paura di dire che c'è la perdizione. E quindi non si parla, si festeggia, il Signore lo si vede dappertutto, il Signore mi ha parlato, il Signore mi ha fatto sentire, il Signore mi ha fatto questo, ma c'è qualcosa che non va. Perché se ho sentito il Signore nella mia vita, la prima cosa, devo avere timore. Dice io tremo alla tua parola, dice il salmista. Devo sentire il senso della inadeguatezza davanti alla presenza di Dio. E devo avere un amore sviscerato nella sua parola. Devo dipendere da lei. Questo re era malvagio. Allora Dio manda un uomo di Dio, un profeta, un uomo consacrato, un uomo che capisce la parola e che è chiamato da Dio. E gli dà un ordine. Porta questa profezia. L'altare si sfraccellerà e su quest'altare saranno bruciati tutti i sacerdoti che farai di Baal e di altri. Saranno qui sopra bruciati. E per segno quest'altare sarà sfrandumato. Gerobeam allungò la mano e disse prendete quell'uomo, la mano si seccò, viene bloccata. E lui disse prega per me. Riconosceva che era l'uomo di Dio ma non voleva fare quello che lui diceva. È la cosa più grave. Perché sapete, signore, cosa dice Luca 10,16? Chi ascolta voi, coraggio, ascolta me. Chi disprezza voi, disprezza me. E chi disprezza, e chi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato. Come siamo facili in questo. Dimentichiamo che Dio si serve anche di uomini. Ma di solito non si vanno a chiedere le cose agli uomini dove tu pensi che ti potrebbe dire no. No, tu la domanda la vai a fare a chi ti dice sì oppure a mamma e papà che ti vogliono sempre coccolare. Allora, la mano si seccò, il profeta pregò. Perché c'è una cosa nella nostra vita come credenti. Noi dobbiamo dire la verità. Ma dobbiamo amare le persone. Tu puoi parlare male di me ma io pregherò sempre per te. Sono costretto ad amarti. Perché l'amore che Dio ha messo nel mio cuore è più grande della tua malvagità. Amen? L'amore che Dio ha messo dentro di me è più grande di tutte le cattivere che tu puoi farmi. O che tu puoi pensare su di me. E se non c'hai questo amore di Dio, ricordi che è scritto in Romani 5-5, lui l'ha sparso, lo vuole spargere. Chiedi a Dio. Invece di chiedere sempre le stesse cose che sono buone, comincia a chiedere, Signore, forse non ho capito bene. Ti prego, Spirito Santo, sparci l'amore tuo nel mio cuore. Forse questa sarebbe una preghiera più appropriata, più profonda, perché ti mette in discorso. Sai perché non la vuoi fare? Come non la voglio fare io, ma che la faccio sistematicamente. Perché ti rende vulnerabile. Perché non sei più il maccio, il forte che sai tutto. Sei vulnerabile, debole. E nessuno si vuol mostrare debole. Tutti vogliono mostrarsi che sanno tutto, capiscono tutto. E rispondono su tutto. Non hanno neanche un limite alla decenza. Sanno tutto sulla medicina, sanno tutto sullo sport, sanno tutto sul governo. Io non lo so questo. Sapete tutto? Io non lo so certe cose. Io so solo... Io una cosa mi fa riposare molto. Dio è sovrano su tutto. I governi possono fare quello che vogliono. E Dio che comanda. E se Dio permette certe cose, lui sa quando deve intervenire, come deve intervenire, a favore dei suoi eletti. Questo mi fa riposare molto. Perché non credo nella sapienza umana. Credo in Dio che è sovrano su tutto. Amen? Allora, l'uomo di Dio dice, fermo nel suo proponimento. Se anche tu mi dovessi dare metà della tua casa, metà del tuo regno, re, io non mangio, non bevo, non faccio niente con te. Perché l'Eterno mi ha detto così. Ma te l'ha detto il Signore così. Allora se il Signore ti ha detto così, qui interviene il fattore U, il fattore D, il fattore P, persona. Oppure interviene la nostra, diciamo così, falsa, come posso chiamare, una comprensione sbagliata. Sapete come dicono tanti quando si trovano davanti alla scelta. Qui il profeta viene intercettato da un vecchio profeta che è bugiardo, che mente, ma è intercettato e crede a quello che dice il profeta, non a quello che gli ha detto il Signore. Cioè, crede a un uomo e non a quello che Dio gli ha detto. Allora, c'è il fattore uomo. Quando la Chiesa smetterà, quando le persone smetteranno di dire e il Signore ha voluto così, no, il Signore provvederà. Ah, poi la cosa più sentimentale, il Signore conosce il mio cuore. Fratelli, queste cose sono vere, ma come vengono dette, sono tante cose che non ci azzeccano proprio niente. Sono scuse per la nostra viltà. A volte siamo tanti Ponzio Pilato. Facciamo del Signore, decidi tu, decidi tu, la scelta è sua. È vero. Allora noi vogliamo, facciamo qui, il fattore u sbaglia. Il profeta fa un errore. Dio gli ha detto una cosa e lui ne fa un'altra. Allora cos'è? Cos'è successo di quest'uomo? Ma il Signore, se un uomo è chiamato da Dio, se la saprà vedere. Ma che cosa, fratelli e sorelle? Che cosa, fratelli e sorelle? Noi quando sentiamo qualcosa da parte di Dio, noi abbiamo due modi per essere liberati da errori e soprattutto per essere più coraggiosi nel fare le cose. Noi se sbagliamo a fare delle scelte, dobbiamo comprendere che quando facciamo una scelta abbiamo una responsabilità e ne paghiamo le conseguenze. Poi diciamo, no, il Signore ha giusta. Che cosa ha giusta? No, io, prima me lo sposo e poi quello cambia. Mi viene da ridere. Fratelli e sorelle, state ancora a questo livello. Oppure facciamo errori con i nostri figli. Gli diamo lo smartphone in mano. Sai perché gli dai lo smartphone in mano? Per stare più libero. Per stare più libero. Perché tu non la vuoi educare. Sai cosa stai facendo? Stai disobbedendo a Dio. No, ma io lo faccio contento. No, no, tu non lo fai contento. Tu stai disobbedendo perché il Signore ti ha detto di educare i tuoi figli, di usare la verga, di disciplinarli, non di farli contenti. Perché un domani i tuoi figli che usano i social avranno i disturbi di notte, non dormiranno. poi andiamo dal pastore a pregare. Ma io devo pregare per la tua testa. Perché tu possa essere illuminato e capire che devi applicare la volontà di Dio. Oppure, voglio fare un esempio. Io conosco una persona e forse questo è un esempio che prende molte sorelle. La quale ha un po' una paranoia con i detersivi. Deve sempre pulire. Pulisce sopra il pulito. C'è qualcuno qua che è così? Allora pulisce sopra il pulito. E mi faceva vedere questa sorella mia che io amo tanto e che sono disposto a mangiarmi la pizza e a condividere tutto con lei. Mi faceva vedere le mani già rovinate ed è abbastanza giovane. Non si mette i guanti. Poi io dico ma come? Ci rimetti i soldi. Inquini. Il creato che dice Dio è buono. Poi un domani vieni in chiesa e dici pastore vuoi pregare per le mie mani? No, io devo pregare per la tua testa. Perché il problema ce l'hai in testa non nelle mani. È giusto o no? Sai quella come si chiama? Disubbidienza. Allora noi dobbiamo andare al principio del peccato. Dobbiamo andare al principio di cosa si muove. Dobbiamo farci una domanda più profonda. Non dobbiamo dire in che cosa ho sbagliato. Ho sbagliato a scegliere moglie ho sbagliato a scegliere marito ho sbagliato a educare i miei figli ho sbagliato ad andare a quella scuola ho sbagliato No! Devi dire cosa mi ha mosso? Qual è il mio peccato? Cos'è lo spirito dentro di me perché altrimenti rifai lo stesso errore? Se non inquadri qual è il vero torto sai qual è? Si chiama disubbidienza ribellione. Significa che vuoi fare di testa tua e addio non piace quello che fai di testa tua. E anche a voi noi genitori cresciamo i figli li cresciamo gli cambiamo i pandolini li portiamo a vaccinare li portiamo a studiare soffriamo con loro piangemo con loro poi quando si devono sposare noi non parliamo io voglio parlare ho parlato io parlo e mi pento di non aver parlato una volta parlo perché dipende da me io ho più un naso ho i capelli bianchi mio figlio non può fare non poteva fare quello che lui voleva senza il mio appoggio io parlo non sono Ponzio Pilato mi prendo le mie responsabilità no fai quello che vuoi tu Ponzio Pilato devi prenderti una responsabilità devi dire non sono d'accordo con te a me che ci vuole no ma poi poi mio figlio mi vuole bene un po' di meno e allora così faceva mio padre papà faceva così io lo amo lo adoro papà però lui mi comprava con le cose ma quando ho fatto 16 anni io ho amato più mia madre che mi disciplinava chi mi amava di più allora noi a volte facciamo i sentimenti mischiamo con la grazia di Dio allora ti voglio dare una soluzione questa mattina perché è giusto dare una soluzione questo profeta morì bellissima la scena del leone il leone non lo tocca lo uccide non lo sbranò come i cani di Jezebel perché comunque rimane un servo di Dio e neanche l'asino fu toccato sono delle scene che ci vorrebbero tanto tempo per spiegarvi cosa significa e vi invito a riflettere su questa grazia che il Signore anche qui ci parla allora arriviamo al punto di cioè come io faccio a difendermi da me stesso quali sono i principi nella mia vita che devo combattere come faccio a individuarli Davide diceva nel Salmo 32 diceva Signore confesserò le mie trasgressioni voglio dire una cosa su questo molto semplice confessare una trasgressione non significa dire Signore ho peccato no Signore io ho rubato ho bestemmiato ho tradito mia moglie ho fatto imbrogli ho fatto truffe significa dire chiamarle per nome e vergognarsi ogni volta che Signore e io ti ringrazio perché da tutte queste cose mi hai liberato gloria a Suo nome no dire Signore sembra quasi che vogliamo minimizzare il peccato ma il peccato è grave è costata la morte a Gesù ci sono persone che non vogliono essere toccati i figli no no toccatemi tutto cosa ma non toccatemi i miei figli e perché Abramo il Signore gliel'ha toccato potrebbe essere un'idolatria perché i tuoi figli non devono essere disciplinati o sono perfetti non sono nati nel peccato come me non devono subire della disciplina e tu sei sufficiente a dare la disciplina ai tuoi figli non sai che il Signore si serve della Chiesa dei ministri di quelli che sanno dire no di quelli che non hanno paura di perdere l'appoggio il tuo consenso per dirti no questa non si fa per il bene dei tuoi figli o un domani vuoi piangere per i tuoi figli allora fratelli voglio darvi due soluzioni purtroppo questo noi non possiamo trincerarci dietro è la volontà di Dio io ho imparato una cosa ho chiesto perdono a mio pastore Napoleone quando una persona non mi vuole chiedere qualcosa è perché già ha capito che io gli dico di no e quindi sapete cosa fanno fanno di testa loro ora ditemi una cosa io perdono a tutti quelli che hanno fatto questo ma quel fatto che sta di testa loro ce l'hai ancora nel cuore o ti vuoi liberare questa mattina vuoi camminare ancora di testa tua o ti vuoi liberare o vuoi andare al principio del peccato e dire Signore questa superbia questo orgoglio questa autosufficienza questa disubbidenza che c'è nel mio cuore io non la voglio più e non voglio più perché il problema non è fare l'errore non è fare l'errore e non ripeterlo perché il giusto cade sette volte ma si rialza non ripetere gli stessi errori perché se ripeti gli stessi errori voglio dirti una cosa fratello e sorella se vivi questa disubbidienza guarda ti devi proprio accontentare della grazia della salvezza e già è tanto ma non ti aspettare grandi benedizioni forse nessun pastore ti dirà questo perché le benedizioni sono frutto della tua obbedienza e consacrazione a Dio ti ricordi cosa dice Gesù io onoro quelli che mi onorano no quelli che fanno chiacchiere no quelli che mi amano no io voglio essere onorato voglio essere amato obbedito e lui ha tutto il diritto di avere di chiedere questo a noi perché lui è il sovrano dell'universo lui ci ha liberato dalle tenebre dall'inferno lui ci ha liberato dai mostri ci ha liberato dai cani ci ha dato la speranza e una vita eterna tutti i giorni nella nostra vita io so che un giorno andrò in cielo amè nessuno mi può cancellare il mio nome nel libro della vita nessuno l'ha messo col sangue di Gesù Cristo è vero e se incorro in questa disubbidienza morirò ma il leone non mi sbramerà Satana non avrà a me amè per dirvi quanto è grande la grazia di Dio però non porterò frutta alla sua gloria non dirò voglio servire il Signore non guarderò la mia figlia la mia famiglia indietro e dirò ma cosa ho combinato cosa ho seminato fratelli sorelle ognuno di noi non vive per se stessa una responsabilità non puoi dire è quello mio figlio ha fatto tutto da solo no no fratello sorello tu sei padre e madre e tutte le cose malvagie che gli hai messo sei tu responsabile e devi chiedere pure perdono ai tuoi figli di averglielo dato sì perché noi quando gli abbiamo dato del male gli dobbiamo chiedere perdono se abbiamo capito e non dobbiamo ripeterlo più amè perché il Signore non mi ricorda i miei peccati non vedo perché io debba ripeterli amè ora ti do due strade da seguire una è infallibile non sbaglierai mai l'altra è percorribile ma la devi devi chiedere conferma queste due strade ti devono accompagnare tutta la vita guardate quella che è infallibile è la parola di Dio la parola di Dio non sbaglia mai la parola di Dio è una spada a due tagli la parola di Dio non può essere contestata e chi la contesta non è da Dio e chi viene a casa mia a dire qualcosa contro la parola di Dio ho tutto il diritto di metterlo fuori perché la parola di Dio non può essere contestata è Dio che l'ha fatta scrivere quindi quando Dio parla quella rimane non deve essere contestata non c'è neanche un perché non c'è un come e io sto parlando delle scelte di un profeta non sto parlando se ti succede una malattia o ti succede qualcosa quelle sono altre cose sono altre cose qua sto parlando del fattore U di quando tu fai una scelta sbagliata e quando tu sei chiamato a prenderti delle responsabilità è tutta un'altra cosa quindi la parola di Dio infalibia leggi la parola ma la parola è scritta molto semplice domenica raccoglieremo le decime lo sai tu se lo devi dare o no mica io ti devo imporre se lo fai ben per te perché la decima è propedeutica preparazione di benedizione sulla parola di Dio c'è scritto che devi perdonare sulla parola di Dio c'è scritto che devi salutare quelli che non ti salutano sulla parola di Dio non c'è scritto che devi accalare la testa abbassare la testa e non salutare vergognati se lo fai devi alzare la testa e devi salutare è vero anche al tuo peggior nemico ti saluta ti saluta a me siete d'accordo o no fratelli o no il signore si è fatto dare un bacio da Giuda si è fatto dare amico tu che fai qui e io non saluto lascia che gli altri non mi salutano ma io saluto a me allora l'altro l'altro che ti voglio dire che ti ho detto come ti ho detto che è perseguibile sono i suoi ministri chi ascolta voi ascolta me significa devi aspettare che più di due ministri ti diranno conferma su un aspetto non ti devi fermare a uno devi aspettare perché il signore parla attraverso i suoi servi chi ascolta voi ascolta me quindi quando qualcuno bypassa i servi del signore sapete dove sta nella completa disubbidienza può Dio benedire una persona che ha scelto di fare di testa sua coraggio no fratelli no fratelli no fratelli non può contravenire alla sua parola Dio ha una parola sola noi dobbiamo mutare perché solo gli stupidi non cambiano ma Dio siccome ha un'intelligenza infinita è sommamente grande la parola in Malachia dice l'eterno non muta non ha bisogno di cambiare perché lui è lo stesso ieri oggi è in eterno siamo noi che dobbiamo cambiare siamo noi che dobbiamo interrogarci allora la domanda che mi devo fare non è cosa ho sbagliato non è se ho sbagliato a scegliere quella moglie quel marito se ho sbagliato a scegliere quella scuola quel lavoro quella maglietta quella shirt quella località no non ti devi chiedere se hai sbagliato a dargli l'iPhone in mano hai usato i detersivi tutto quello che voi volete cos'è che mi ha mosso quale disubbidienza c'è in me dice pastore ma è così importante se io do se io do un tablet ai miei bambini ho usato i detersivi sì sai perché ma se non ti liberi di queste piccole cose come fai a liberarti da un'invidia qual è più potente lo spirito dell'invidia o questa cosa qua dimmelo ho coraggio o dalla critica o dalla superbia se non hai la disciplina che riesci a liberarti di queste piccole cose fratelli a me mia moglie mi dice a volte tante cose in quella disciplina io lo faccio volentieri perché se faccio quelle piccole cose io ho la forza di dominare le grandi cose come faccio a liberarmi da un'invidia il tarlo delle ossa Dio mio la superbia avidità i soldi i soldi avarizia chi mi potrà liberare solo se tu chiedi Signore qual è il mio peccato voglio ubbidire a te e ti sottometti all'ubbidienza di Dio Signore non più io ma voglio che tu vivi in me allora questo questo significa Signore qualunque cosa succede io sto nelle tue mani e tu mi benedirai sia che passo attraverso il fuoco non se l'ho bruciato Signore potrò affogare potrò affondare ma tu mi salverai so che all'ultimo momento l'ultima parola l'ultima cosa tu ce l'hai a me e a lui spetta l'ultima parola questi sono i due metodi per essere liberati dall'errore perché vi dico questo e voglio completare io ho fatto errori io ho fatto errori ma come ministro di Dio devo informarvi di questo è il mio desiderio che voi non le facciate e soprattutto qual è il mio desiderio fratelli e sorelle avere il vostro consenso o guidarvi nelle vie del Signore guidarvi nelle vie del Signore e un giorno potrete dire Signore voglio pregare così voglio cambiare il mio modo di pregare voglio cominciarmi a prendere delle responsabilità non sugli altri perché è facile che mi prendi una responsabilità su di te non mi costa niente mi costa di meno non conto se me la piglia con mia figlia mio figlio la pesa perché nessuno è profeta in patria è diverso dice un momento la significa assumere un ruolo davanti a Dio di profeta allora fratelli e sorelle ricordatevi il fattore per piacere non dite più il Signore fa tutto lui no non lo voglio sentire questo è da alimentare è proprio da da convertito della prima ora no il Signore poi provvederà che cosa provvederà fratelli e sorella devi provvedere tu a me devi provvedere tu ad ubbidire devi provvedere tu a fare la volontà di Dio devi provvedere tu a venire in chiesa perché queste cose tu le senti in chiesa guardate ciò che è più importante dopo Gesù è la chiesa a me è la chiesa il suo corpo perché qui viene ad adorare qui viene a lodare qui viene a benedire qui nella nostra imperfezione Dio ci benedice amen e se veramente vogliamo ubbidire al Signore questo ci comporterà una smisurata grazia da parte sua una benedizione incredibile nelle nostre case costa? sì costa a me è costato parecchio costa ma Dio lo merita grazie a tutti grazie a tutti